Ah beh, visti gli ultimi aggiornamenti dei nostri tre pretendenti per il secondo posto Samson Dauda, Derek Lansford e Nick Walker A questo punto mi chiedo anch'io chi sarà il vice Mister Olimpia Perché diamo per scontato appunto che Big Rami vincerà in scioltezza E se sino a poco tempo fa pensavo che Nick Walker fosse il candidato principale Vedendo gli aggiornamenti bovini di Derek Lansford e quelli nobili estetici di Samson Dauda Mi sto un po' ricredendo anche sulle mie parole Perché Nick chiaramente è un Mass Monster bestiale Forse meglio di tutti incarna il Mass Monster nel 2022 Perché comunque è anche basso quindi sembra ancora più mostruoso di un Big Rami E questo è il suo ultimo aggiornamento Sembra che la prep stia andando molto bene Sembra abbastanza definito Sembra molto in forma La vita è in controllo Ma il suo problema non è mai stato la vita in controllo È un po' larga in questi aggiornamenti Sembra più stretta di quello che è in realtà Però la vita è sempre in controllo La doma è in controllo È posta sempre degli aggiornamenti molto nobili Molto convincenti Da qui la mia idea che sia il candidato principale per il secondo posto E continuo a pensarlo Però vedendo gli aggiornamenti degli altri Mi sto un po' ricredendo Più che altro non per i miei gusti personali Ma per la nobiltà degli aggiornamenti degli altri E se dovessi parlare solo dei miei gusti personali Io farei vincere Proprio vincere il Mister Olimpia a Samson Dauda Perché davvero posta degli aggiornamenti sempre più convincenti Sempre più nobili Non trovo delle pecche nel suo fisico Anche sforzandomi Non trovo dei difetti Ed è davvero difficile che un bodybuilder non abbia dei difetti E dobbiamo proprio andare a cercare il pelo nell'uovo Cioè il piccolo del bicipite Il tricipite che dovrebbe essere un po' più carnoso Ma sono davvero dettagli minimi Che proprio dobbiamo andare a cercare Ha pubblicato un side rise per un side chest Davvero eccezionali L'inquadratura è dal basso Quindi sembra ancora un po' più imponente Ma lo trovo davvero denso Concreto Estetico Con la massa Un po' mass with class Per utilizzare un soprannome di Lila Brada Che comunque era un po' più piccolino Lui è mass with class Aggigantato Mettiamola così E parlando di aggigantamento Qui vediamo il progresso Che ha pubblicato lui su Instagram 2019-2022 Il 2022 sembra una versione Ancora più nobile Del 2019 Davvero I tagli nelle gambe sono incredibili Le gambe sono fantastiche La densità è fantastica Non trovo davvero Dei punti deboli E so che sono ripetitivo Però mi piace davvero molto Non lo vedo Secondo a nessuno Tra Derek Lansford Nick Walker E appunto Samson Dowd E questo è un altro progresso Dieci settimane Prima dell'Arono Classic È unici settimane prima del Mister Olimpia Questa foto la pubblicata due settimane fa Se non sbaglio E davvero c'è Un abisso di Differenza tra le due foto Davvero Aggigantato Oltre ogni limite Senza abbovinarsi Perché ha mantenuto Quella linea Estetica Anche in off-season Non abbiamo visto delle cose Bovine Per quanto riguarda lui Invece Parlando di Derek Lansford Lui Sì che si è Abbovinato Ma Ci sta Perché comunque sta facendo il passaggio Dalla 212 Alla Open E anche lui Non scherza Minimamente E se dovessi scegliere In base ai miei gusti Anche in questo caso Far ripassare Derek davanti a Nick Walker Quindi Sono molto Indeciso Tra Chi arriverà Secondo Perché secondo me Sono loro tre Che se lo Giocano il posto Qui vediamo una Zoomata Sull'aggigantamento Di Derek Come detto Necessitava questo abbovinamento Perché Passando a 212 Alla Open Deve mettere su La massa necessaria Anche perché È un po' più basso Rispetto agli altri Forse A meno che non gradici Sean Clarida Nella Open Cosa che non credo Resterà il più basso Tra quelli Nella Open Quindi Ha dovuto Aggigantarsi Più del dovuto E Ha fatto bene Questo è un altro Aggiornamento Che ha pubblicato Ieri Mentre Allena La La schiena La cosa che mi stupisce È che anche lui Ha mantenuto come Samson Dauda Quell'aspetto Estetico Quella vita stretta Mantenendo il V-Taper Quindi Quelle cose importanti Nel bodybuilding Che mancano un po' A Nick Walker In virtù della sua vita Un po' larga Quindi Io lo chiedo Anche a voi Chi è secondo voi Il bodybuilder Che arriverà Secondo Io penso che Sarà ancora Il caso Di Nick Walker Ancora nel senso Mantenendomi Alle mie Previsioni Tre virgolette L'anno scorso È arrivato quinto Però Io credo che Nick arriverà Davanti A Derek E Samson Però Preferisco Di gran lunga Samson A entrambi E preferisco Derek Rispetto a Nick Però Sarà davvero Un mistero Olimpia Interessante E questi tre Sono quelli Che mi interessa Di più Vedere in assoluto Buona Olimpia 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 Olimpia